Siamo nuovamente in diretta sulla fanpage di Sanofi Italia con Sanofi Live Research to Care, il premio per la ricerca italiana, indipendente, scientifica. Uno dei premiati è Giovanni Ferrara, allora, napoletano di nascita, piacentino di adozione, 39enne, oggi di base a Genova in realtà il 2012. Ecco, in realtà mi ha colpito quando ci siamo sentiti per l'intervista che insomma tu parti con la tua attività alla ricerca degli anticorpi che possono influenzare negativamente la malattia. Gli anticorpi cattivi, che tipo di lavoro fai? Dunque, allora, io mi occupo da ormai più di 15 anni di studiare appunto la sclerosi multipla, in particolare in questo progetto mi occuperò di andare a caratterizzare la presenza di questi autoanticorpi che, secondo le nostre ipotesi, potrebbero riconoscere delle cellule particolari presenti nel cervello. Questi autoanticorpi noi ipotizziamo che possono avere un ruolo negativo per quella che viene chiamata la rimilinizazione endogena. In più saremo in grado anche di dire se, inibendo in qualche modo questi anticorpi, saremo in grado di favorire la rimilinizazione endogena appunto. Quindi questo aspetto, a mio parere, può essere molto utile nella gestione dei pazienti affetti da sclerosi multipla. Il ricercatore, insomma, diventa un detective che va a caccia di questi anticorpi, che sono sentinelle positive, ma non sempre, perché delle volte possono apparire anche negative e cattive. Voi andate a studiare col vostro team. La squadra, da chi è composta e che tipo di percorso avete deciso di portare avanti anche grazie a questo riconoscimento? Allora, innanzitutto volevo appunto ringraziare il professor Antonio Uccelli, che è il supervisor del nostro laboratorio, che coordina le ricerche del nostro laboratorio insieme alla dottoressa Nicole Kerlero de Rosbo. Il primo step che affronteremo sarà quello appunto di recuperare liquor, quindi campioni di pazienti SM, che verranno poi testati in esperimenti in vitro. Attraverso questi esperimenti saremo in grado di dire se questi anticorpi sono effettivamente presenti o no nei liquor di persone affette da sclerosi multipla. In seguito, attraverso ulteriori esperimenti in vitro, saremo appunto in grado di individuare se questi anticorpi sono cattivi o sono buoni eventualmente. Tanto lavoro di ricerca, lavoro di gruppo, lavoro di analisi nei laboratori, che cosa significa fare per te ricerca in Italia oggi? Dunque, io ho declinato la mia intera vita alla ricerca, quindi per me non è una passione ma è una missione lavorare nella ricerca. Io da sempre, da quando avevo 15 anni, avevo pensato sempre di fare questo mestiere. Per me è importantissimo, in Italia possiamo fare davvero tutto quello che un ricercatore desidera e per me è una sfida quotidiana da portare avanti, che non solo riguarda la mia carriera come ricercatore ma che ha anche un occhio verso i pazienti, verso le persone che sono affette da sclerosi multipla. Grazie, grazie Giovanni Ferrara. Complimenti a te e a tutto il gruppo di lavoro che opera a Genova. Noi ci vediamo tra poco ancora con Sanofi Live Research to Care in diretta da Roma, dal Senato, per il premio promosso da Sanofi Genzyme. Grazie ancora.